Le scuole sono sporche e c'è una spiegazione. L'affermazione è delle ex BDL in forza alla multinazionale Dusman che ha in gestione l'appalto dei servizi di pulizia nella nostra provincia. La condizione delle lavoratrici, spiega il coordinamento che oggi ha scioperato, è drammatica. Siamo sfruttate da questa azienda Dusman perché ci levano le ore di contratto, lavoriamo molto meno. Quindi lavorate con grosse difficoltà, supponiamo? Molte difficoltà. Oltretutto a minimo scena di trissenso ci sono lavoratrici che vengono spostate anche molto lontano, ritorzioni. Poi abbiamo la banca ore in negativo e questa banca ore in negativo praticamente ci porta dei salari da fame tipo 174 euro, 200 euro e campare una famiglia con questi stipendi è veramente tragico. A risentirne sono le pulizie negli edifici scolastici della provincia e l'igiene degli ambienti, anche perché l'azienda non fornirebbe il materiale necessario alle addette. Rivedere i nostri contratti, le nostre mansioni e di lavorare in maniera dignitosamente presso le nostre scuole, per avere maggior servizio e efficienza sia riguardo gli alunni dentro le scuole, sia per il mantenimento delle pulizie che sono importantissime dentro le scuole.